Nella serata di ieri a Campagna i carabinieri hanno arrestato un 33enne originario di Alta Villa, Sirentina, già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato fermato mentre era alla guida della propria auto e sottoposto a perquisizione. Tale operazione ha portato al rinvenimento di circa 90 dosi di marijuana occultate negli slip e circa 50 euro in contanti, ritenuti provente dell'attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il 33enne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida così come disposto dall'autorità giudiziaria.